Ci sono voluti più di due mesi, ma adesso la documentazione è in regola e la Galleria Umberto avrà la sua sede della Mondadori. Era il 17 maggio quando il giorno dopo l'inaugurazione in Pompamagna, all'esterno della libreria veniva esposto il cartello che informava i tanti avventori che la struttura sarebbe rimasta chiusa. Nel mirino dei caschi bianchi che avevano effettuati i controlli, alcuni problemi relativi alla scia. Vi era infatti un'incongruenza tra le dimensioni commerciali comunicate al comune e la reale superficie sulla quale insisteva l'attività. Adesso però tutto questo dovrebbe appartenere al passato. Tutto è bene quel che finisce bene insomma e lunedì 5 gli amanti della cultura e della letteratura potranno ritrovarsi sotto la volta della Galleria Ottocentesca, anche se si fa fatica a comprendere come sia stato possibile non verificare prima dell'apertura al pubblico che i permessi ci fossero tutti. L'assessore al turismo e alle attività produttive del comune di Napoli, Teresa Armato, però preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno. È stata una vicenda come ha detto lei un po' travagliata perché c'è stato bisogno di un periodo un pochino pochino più lungo per mettere a posto e definire tutta la procedura di autorizzazione. Nel momento in cui si è provato a fare la prima apertura è stato evidente che mancassero alcune autorizzazioni, ripeto non solo quelle comunali alle quali invece adesso si è arrivati con un po' di tempo in più. A volte diciamo il tempo è pure utile perché dà la risoluzione anche a qualche problema. Quindi io vedrei le cose ora in positivo, ci fa piacere davvero che si apra nella galleria, nella nostra splendida galleria nella quale tra l'altro stiamo anche facendo lavori di rigenerazione.